Aversa, Aversa, Staderno, Vallo della Lucania, Vallo della Lucania, Grande, non lo ripeto, Aversa e Napoli. Una parte piccola di Napoli in arrivo. Teramo, tutti quanti, giovani o ACR? Io ACR. Siamo stati invitati e abbiamo raccolto l'invito. Non si rifiuta un invito? Assolutamente, non ne abbiamo bisogno. Belluno, Ventre. Che bello il coretto, grandi. E giovani o ACR? Miss, grandi. Grandi, ottima, rappresentanza completa. Giovani? Giovani. ACR? Fantastico. L'espressione della tua emozione in questo momento. Più di questo. Grazie. Ma io ho sette giorni e voglio fare sette cose che è proprio la dire del mondo. Guarda, guarda già. Applausi. 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 Uno, due, tre. Grazie. 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 Grazie a tutti.